Pomeriggio e bentrovati a Caserta Sera Stadio, lo spazio dedicato al dopo partita. Sigla, ci vediamo subito dopo. Dallo Stadio Marchese del Prete, Venafro. Ottava giornata di campionato, Big Match, Desisto, Castel di Sangro, 3-0. Il Desisto, quarta in classifica, con 15 preziosi punti e con ancora una partita da recuperare. Il Castel di Sangro, neopromossa in prima categoria, è che finora vantava 6 vittorie su 7 e una media di 3 gol a partita. Nella prima frazione di gioco è la Desisto ad imporre il ritmo e al ventesimo passa con Riccitiello. Nella ripresa gli ospiti provano a scuotersi, impenserendo la retroguardia locale con un pressing continuo, ma senza sortire il meritato pareggio. Decisamente bella e vibrante la partita appena conclusa. Adesso però passiamo alla linea dei protagonisti, che sono in compagnia di Antonio D'Amato. In compagnia del capitano, nonché il play manager della Desisto, Filomeno Riccitiello. Gara molto particolare, gara che alla vigilia probabilmente riservava molte insidie. Come è stata? Sicuramente lo sapevamo che andavamo ad affrontare una squadra attrezzata per lottare alla vittoria di questo campionato. È stata una bella partita innanzitutto, sportività al 100%, ci siamo divertiti tutti al di là del risultato. Poi ho visto che il Cassetto del Sangro è una squadra molto attrezzata. Noi abbiamo fatto di tutto oggi per fare i nostri tre punti. In effetti diciamo che a una prima frazione di gioco dove avete controllato e amministrato la gara in una certa maniera, poi nella ripresa il Cassetto del Sangro si è rifatto sotto e vi ho impensierito in più di una circostanza. Sì, il primo tempo eravamo più in palla, siamo stati sempre nella loro tre quarti, abbiamo avuto il baricentro molto alto. Poi purtroppo la fatica è venuta, è venuta fuori un po' di fatica, quindi abbiamo indietreggiato una ventina di metri, quindi loro hanno preso un po' il sopravvento. Il pallino del gioco è stato loro, però alla fine questa è anche una tattica di gioco. Facciamo del nostro meglio, sfruttiamo al meglio le nostre armi. Poi alla fine ti sei portato a casa il pallone, tre gol? Eh vabbè, è capitato, mi fa piacere più che per i miei tre gol per il bottino pieno della squadra, ci siamo rimessi lì dove ci tocca, ai vertici di questa classifica, adesso dobbiamo recuperare anche una gara, speriamo di vincere anche questa. Stiamo un attimo ripagando i sacrifici della società. Quindi invece, visto che mi sembra che dalla Lega non ci sia ancora una data e un campo per il recupero, domenica prossima siete di scena dove? Mi sembra a Presenzano, noi viviamo la giornata, qua cerchiamo di vincere partita dopo partita, poi dopo al novantesimo guardiamo chi affrontiamo domenica. Comunque purtroppo la data della gara del recupero, purtroppo in Molise siamo messi un po' male con le strutture, quindi dobbiamo cercare anche fuori dalla nostra regione, perché non c'è un campo con i fari, perché purtroppo questa è una categoria che la gente lavora, ci andiamo a divertire, per giocare alle sei di pomeriggio è difficile trovare una soluzione. Presidente, faccio la stessa domanda che ho fatto al vostro capitano, che campionato pensate di fare? Guardi, io mi auguro di fare un bel campionato e di divertirci. Speriamo di arrivare il più su possibile, ma giochiamo, come dice il nostro capitano, la giornata e cerchiamo di battere l'avversario che ci troviamo di fronte. A proposito di campi, ma la vostra struttura è di Ailano? Guardi, la nostra struttura sta migliorando, il Comune ci sta lavorando, la stiamo rendendo un campo da calcio, però per il momento la nostra squadra rende di più sul sintetico, non possiamo fare a meno di giocare almeno le partite in casa su un campo sintetico. Qual è stata la svolta della gara oggi? La svolta della gara oggi è stata che noi abbiamo preparato in tutta la settimana una grande gara e colgo l'occasione per fare i complimenti ai ragazzi. Castel di Sangro è una grandissima squadra, fortissima, hanno una tifoseria impressionante. Faccio i complimenti anche al Castel di Sangro, ma oggi abbiamo avuto più voglia di vincere la partita. Siamo con mister Varallo, guardando un attimo la partita di oggi, un primo tempo dove forse avete sofferto un po' il pressing e il possesso palla della Desisto, ma una ripresa dove in effetti è mancato solo il gol. Sì, questo è vero, infatti non siamo stati bravi a buttarla dentro, se no sarebbe stato sicuramente un parigio peritato. Quindi alla fine è un passivo eccessivo per i suoi ragazzi? Sicuramente, anche perché non meritavamo una sconfitta per 3-0, già 1-0 non era giusta, con 3-0 è stata proprio una cosa brutta. Domenica siete di scena dove? In casa contro La Pietra. Formazione che mi sembra occupa la zona medio-bassa della classifica. Sì, quest'anno medio-bassa, anche se l'anno scorso abbiamo fatto i play-off per salire proprio contro La Pietra e perciò ci giochiamo quasi un derby. Bene, la nostra trasmissione termina qui. Vi ringraziamo tutti e vi aspettiamo alla prossima. Sigla! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.